Allora amici di Antenna Blu una buona serata a tutti da Claudio Gambaro io sono qui in compagnia di Andrea Vialardi che io Andrea l'ho conosciuto davvero tantissimi anni fa lo ricordo ospite in una mia puntata a Radio Liguria 1 è vero è vero tanti tanti anni tantissimi anni fa io passai un tuo pezzo per un po di tempo si chiamava 56 di taglio esatto bravissimo poi non so se è mai uscito è stato un progetto che è morto lì però una cosa simpatica ai tempi di Baccini ai tempi di Baccini Walter cos'era sì c'era c'era un autore che era Walter Bartolozzi che ricordo bene esatto che insomma aveva fatto una serie di brani io li avevo musicati comunque era insomma una bella una bella compilation di brani però poi è rimasta un po' disimmacolate concezioni ma lo ricordo ok poi tu sei andato avanti hai fatto tantissime cose hai fatto molte cose strumentali per la tv ho fatto parecchie cose principalmente ho fatto colonne sonore per videogames per playstation xbox tra i quali insomma quella un pochino più importante diabolic che ha venduto 800 mila copie ed è stata una bella insomma una bella esperienza poter musicare delle immagini quindi che riguardavano in questo caso i videogames e poi oltre a quello mi sono dedicato ad altre ad altre cose tra le quali diciamo anche l'aspetto dei come dire dei musical e ho fatto anche un musical che era alice il paese delle meraviglie il musical delle meraviglie poi l'avevamo rinominato e ho fatto una prima al verdi dove abbiamo fatto sold out è stato uno spettacolo fantastico due anni e mezzo di lavoro con personaggi che seguivano la diciamo la la parte più tecnica che erano nomi importanti giovanni marialori tra tra tutti che era quello diciamo il coach di amici piuttosto che altri altri personaggi insomma di calibro roberto spina che è quello che ha curato la regia di aladin insomma di importanti musico e io insieme a gianluca riguardo mi hanno fatto tutta la parte musicale e insomma è stato un bello spettacolo e oltre a quello poi mi sono un po evoluto ho fatto anche delle situazioni mi sono dedicato alla regia ho studiato da regista sono diventato regista sono riuscito a fare da iniziando da videoclip musicali sono andato a finire poi su dei mediometraggi tra i quali uno è andato anche a finire in un film festival in finale e poi diciamolo che quest'anno è uscito quest'anno invece uscito il lungometraggio finalmente per il cinema con andrea roncato da l'aria di lazaro fabrizio bucci beatrice luzzi insomma nomi abbastanza importanti e il nostro andrea carretti che diciamo l'attore ligure che anche la voce speaker del genoa comunque abbiamo fatto questo lungometraggio che siamo tanta voglia di te che è attualmente ancora nelle sale adesso andrà in lombardia nelle marche ed è stata un'esperienza fantastica perché abbiamo creato un film per il cinema che era una una mia priorità e adesso stiamo facendo invece sempre con silvia monga che è la sceneggiatrice del film un cortometraggio per un festival vari film festival e siamo in esecuzione adesso e poi ho fatto delle musiche per i ricchi e poveri nel 2000 che poveri poi stai curando anche la produzione di una giovane artista esatto che amari giambruno che abbiamo già intervistato un po di tempo fa la stai producendo la stesse seguendo in questo nuovo lavoro che in questo primo lavoro del lavoro d'esordio che prossimamente vedrà luce oggi siamo in un teatro che il teatro di cicagna che abbiamo scoperto veramente un posto meraviglioso quest'oggi perché un'altra nuova c'è un'altra veste perché andrea davvero sta facendo tante cose in questi anni perché sei qua questa sera diciamo che io ho dovuto delle collaborazioni in particolar modo con giampaolo caso che diciamo era in giuria qua chitarrista abbiamo collaborato in vari progetti e poi sono diciamo sono anche amico di dei proprietari tra virgolette dei gestori del del teatro e quindi se sergio giunta e quindi sono mano diciamo mi hanno coinvolto nella prima edizione del festival dicendo ok dobbiamo fare questo festival ci dai una mano creiamo una situazione di lavoro dove tu ti occupi della regia e così è nata diciamo la prima manifestazione del fantastico festival risalente l'anno scorso e quest'anno abbiamo replicato perché ci sembrava carina la versione dell'anno scorso abbiamo cercato di migliorare un po' quelli che potevano essere i parametri del primo cercando appunto di multimedializzare un attimo la situazione con interventi un pochino più tecnici e video durante le esibizioni e abbiamo creato questa sorta di team dove io ho curato la regia dello spettacolo insomma e insieme agli altri è venuta fuori una bella esibizione in un posto in un teatro molto carino e con artisti che quest'anno anche in special modo hanno veramente dato un contributo alto e un livello quasi direi professionistico all'evento che c'è stato ci vai in vacanza ogni tanto ti rilassi devo andare in vacanza con la famiglia devo partire devo partire con la famiglia e lì staccherò tutto quello che riguarda esattamente però stiamo iniziando anche una stagione che è particolarmente fortunata per la musica cioè l'estate quindi ci saranno degli impegni assolutamente stiamo preparando sto preparando un lavoro adesso anche con con angelo soggio che è il cantante stiamo cercando di fare delle cose e speriamo che diano insomma dei frutti in futuro ci sono delle cose in ballo comunque diciamo che viviamo tra virgolette un po la giornata però sempre con uno sguardo rivolto al futuro per non rimanere mai indietro certo quindi ricordatevi che se sentite il nome di Andrea Vialardi potrebbe essere un film potrebbe essere un disco potrebbe essere potrebbe essere qualsiasi cosa sì diciamo che mi piace un po' a primi e a tre centi gravi cercando sempre di curare nei particolari soprattutto quello che dico io è che quando intraprendi un percorso devi sempre avere in mano e sotto mano le cose essenziali cioè quindi devi studiare per arrivare a un buon risultato perché se non studi se non oltre che a studiare mettere in pratica quello che studi prima di fare qualsiasi cosa è difficile che riesci a meno che non sei proprio un talento naturale ad arrivare a certi livelli quindi lo studio in primis su tutto ma non solamente sulla musica piuttosto che sul cinema ma in qualsiasi cosa una persona una persona voglia fare bisogna che si applichi con lo studio perché è l'unica maniera per riuscire veramente a diventare a livelli alti perché altrimenti rimarrai sempre diciamo improvvisarsi sì l'improvvisazione sì sì ripeto ci sono talenti che possono improvvisare una o due volte andare bene ma tante volte poi si bloccano lì perché l'idea va bene ma puoi averci una o due volte invece se tu diciamo a quello che fai metti insieme lo studio diciamo fai un connubio perfetto secondo me poi voglio dire ripeto l'improvisazione va bene ma fino a un certo punto ok Andrea ora ti lasciamo ti aspettiamo in studio prima o poi con i nostri ragazzi di RGB Produzioni Luca Cevasco e tutto il gruppo e magari ci facciamo una bella chiacchierata in studio tra un'uscita e l'altra a me fa sempre piacere grazie allora amici di Antenna Blu per adesso è tutto a presto ciao Andrea ciao